Buone notizie per gli amanti della montagna e non solo. Quest'estate sarà possibile vivere un'esperienza esclusiva cenando sospesi e ammirando il Gran Sasso d'Italia. La cabinovia dei Prati di Tivo infatti dalle ore 20 in poi in alcune date si trasformerà in un vero e proprio ristorante. Un ambiente suggestivo che oltre al buon cibo offrirà una visuale spettacolare. L'iniziativa presentata in provincia si chiama La Cena Sospesa ed il primo appuntamento si svolgerà sabato 3 agosto. La prima cena fatta in questa maniera in Abruzzo è la prima volta che accade. È bellissima la sinergia che si sta creando ai Prati di Tivo anche con questo tipo di iniziative che portano sicuramente beneficio e innovazione ai clienti della stazione. Partiamo appunto sabato 3 con questa cena. La cena durerà a una durata di un'ora, si cenerà in movimento nel ristorante più spettacolare, più panoramico d'Abruzzo. È un progetto innovativo, un'idea di Antonio Riccioni, io l'ho sposata immediatamente perché è una cosa che fa benissimo al territorio. C'è molta gente, sta venendo tantissima gente, la cabinovia è sempre aperta, dalle 8 e 30 di mattina alle 18 di sera è sempre aperta e sta portando i suoi frutti. La gente sta salendo a Prati di Tivo, c'è un'offerta magnifica, si può migliorare tantissimo e questi appuntamenti vanno solo ad accrescere la qualità della stazione. Adesso si pensa all'estate ma ha anche un occhio di riguardo per l'inverno. Per l'inverno siamo pronti, la politica ha dato mandato sia per le manutenzioni che per gli Obelix, però ancora ci sono da ultimare degli affidamenti e dei problemi burocratici. L'inverno non è ancora così certo come l'estate.